Giornate nere per l'ufficio elettorale del comune di Pagani e per i cittadini elettori. Molti disagi non sono mancate le denunce di chi non ha potuto esercitare il proprio diritto al voto. E' il caso di un 86enne che dopo aver abitato per anni a Calci, in provincia di Pisa, era ritornato a Pagani dove risiede dal gennaio dello scorso anno. Nonostante la residenza da oltre un anno nella città di Sant'Alfonso ad essere un regolare contribuente dell'ente comune non risulta essere iscritto nelle liste elettorali che evidentemente non vengono aggiornate più da tempo. Nei giorni scorsi l'uomo si era ripetutamente recato presso gli uffici di via Pittoni ma senza mai vedersi risolto il problema, tant'è che non gli è stato consentito di esercitare il suo diritto di voto. Contattato anche il comune di Calci in Toscana, gli è stato risposto che il disagio dipendeva essenzialmente dal comune di Pagani che non aveva provveduto ad aggiornare la sua nuova posizione anagrafica. L'anziano cittadino non si è arreso e nel pomeriggio di oggi incontrerà il suo legale per sporgere denuncia contro l'ente che non ha consentito di esercitare il diritto al voto. Ma l'ufficio elettorale di Pagani è andato in questi giorni letteralmente in tilt, lunghe code soprattutto di giovani diciottenni per la prima volta chiamati a votare, ai quali non sono state inviate le tessere elettorali e che hanno dovuto ritirarle ieri presso la sede comunale distaccata di via Pittoni. Ma disagi si sono registrati anche per tutti coloro che nell'ultimo anno hanno cambiato residenza, sia all'interno dei confini cittadini che da fuori comune. Sembra che i disagi siano stati dovuti al turnover dei dipendenti e dal pensionamento di chi per anni ha gestito l'ufficio e non è mai stato sostituito.